Confronto sul cao di Faenza ha poco più di tre mesi dalla sua inaugurazione fra azienda sanitaria, medici di medicina generale e gruppi politici. Il centro di assistenza e urgenza di via Golfieri ha al momento un costo di 400 mila euro all'anno per l'Ausra Ormagna. In questi mesi l'azienda sanitaria sta rilevando un calo di accessi dei codici bianchi e dei codici verdi nei pronto soccorso del territorio nonostante però un aumento generalizzato dei pazienti. La situazione si sta verificando anche a Faenza. Tuttavia è ancora troppo presto per capire se il calo dei casi non urgenti sia dovuto all'apertura dei nuovi poli sanitari. Il bilancio sull'attività del cao da parte dell'Ausra è comunque positivo. A breve gli ambulatori verranno dotati anche di ecografo. I tempi d'attesi media si aggirano sui 30 minuti e il livello di soddisfazione dei pazienti in base ai questionari compilati è buono. L'Ausra si espressa positivamente anche sull'operato dei medici di famiglia riconoscendo l'enorme carico di lavoro ai quali i professionisti sono sottoposti. Una recente indagine dell'università Bocconi ha dimostrato che in Romagna i medici di famiglia lavorano oltre le 45 ore settimanali ma solo un terzo del tempo può essere dedicato alle visite ambulatoriali. Molto tempo è invece impiegato nel rispondere alle richieste dei pazienti e nelle procedure burocratiche. Di parere opposto sui cao sono stati invece in questi mesi i due principali candidati alla regione. Sia Michele De Pascale sia Elena Ugolini infatti hanno dichiarato che l'organizzazione e i servizi offerti dai cao vanno rivisti. Poco convinti dei cao si sono dimostrati anche i medici di medicina generale che vedono nel centro una replica in sostanza dei servizi già da loro offerti negli ambulatori e quindi uno spreco di risorse finanziare. A vantaggio di una tipologia di paziente che preferisce unicamente sostare il minor tempo possibile in sala d'attesa indipendentemente dalla tipologia di risposta ottenuta e alla ricerca di scappatoie per ottenere gratuitamente prestazioni che se non passassero attraverso il cao andrebbero soggette a ticket. I medici hanno poi notato che non sono pochi i pazienti che prima si rivolgono al cao e poi tornano dai medici di medicina generale con le identiche richieste presentate all'ambulatorio di via golfieri. I medici hanno quindi lanciato un allarme dal punto di vista economico in un periodo difficile per il sistema sanitario da questo punto di vista. Per quanto riguarda il ticket infatti un paziente che viene oggi visitato dal cao ma necessita di ulteriori controlli può essere inviato direttamente dal medico cao ad un collega specialistico ospedaliero saltando la coda al pronto soccorso o i tempi d'attesa per prenotare la visita. Un'opzione oggi quasi mai per corribere per i pazienti inviati allo specialista dal medico di famiglia. Non solo, contrariamente ai pazienti inviati dal medico di famiglia i pazienti inviati dal medico cao sono esenti dal pagamento del ticket e questo già diverse persone l'hanno scoperto e ne stanno approfittando. I medici infatti hanno notato fra i loro assistiti un determinato numero di persone che puntualmente il weekend si recano al cao. Un problema che l'azienda sanitaria dovrà arginare in qualche modo. Nel frattempo però prossimamente per determinati consulti specialistici anche ai pazienti inviati dai medici di medicina generale verrà consentito di accedere direttamente alle visita specialistica senza dover sottostare ai tempi d'attesa. Di fronte però ad uno scenario di questo tipo sia per i medici sia per l'azienda sanitaria è ora necessario mettere in campo una campagna di informazione ed educazione rivolta ai pazienti per far capire quando è necessario rivolgersi al proprio medico di fiducia, quando è necessario recarsi al pronto soccorso e quando invece si può trovare una risposta alla propria necessità al cao. Per l'AUS infatti i cao devono svolgere un ruolo di affianchamento e di potenziamento della continuità assistenziale sul territorio. Purtroppo però in Italia è difficile che un servizio gratuito non raggiunga la saturazione di domanda fin da subito proprio per la sua gratuità invece che per i servizi offerti. Il problema culturale dei pazienti è poi esploso dopo la pandemia. In molti vige la pretesa di ottenere senza aspettare una risposta e una cura immediata. Non ottenendola le persone cercano scappatoie e quando ottengono risposte negative diventano aggressive. Un contributo all'educazione dei pazienti potrebbe arrivare dal nuovo numero 116 117 al quale i cittadini possono rivolgersi per capire appunto quale servizio è più utile in base alla propria necessità. Il numero dovrebbe entrare in funzione nei prossimi mesi. Sempre nei prossimi mesi dovrebbe essere inoltre inaugurato il CAO di Castel Bolognese nella casa della comunità in Viale Roma. L'apertura è prevista fra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.